cari amici e con gioia che volevo postare il video della mia piccola campanella personale una delle tante questa campana è della fonderia trebino di uscio genova e a mezzo slancio 15 centimetri e adesso vi farò sentire il suono a distesa salute a tutti colgo l'occasione anche per salutare ovviamente i miei amici genovesi valerio michele davide tutti un saluto